Dopodiché non sono d'accordo sul fatto che la strategia abbia fallito, cioè questa strategia che è stata portata avanti. Dipende che cosa si intende, certo, se si puntava all'invasione dell'Ucraina la strategia ha fallito e questa è la proposta che state facendo, perché se non è questa la proposta che state facendo, colleghi, mi corre l'obbligo di ricordare che quando Putin è entrato in Ucraina prevedeva una guerra lampo che sarebbe durata pochi giorni, che avrebbe portato le truppe russe fino a Kiev, mentre oggi noi siamo dopo due anni in una situazione nella quale l'ipotesi di un'invasione totale dell'Ucraina non è minimamente, su nessun radar minimamente presa in considerazione, l'ipotesi che le truppe ucraine non arrivino a Kiev non è sul tappeto e l'Ucraina ha recuperato una serie di territori che erano stati occupati. Questo secondo me non è un fallimento, certo, se poi l'obiettivo era dire, come in buona sostanza si sostiene da tempo, signori, l'Ucraina è in inferiorità numerica quindi si deve arrendere, si deve arrendere perché la Russia è più forte, è esattamente il principio che contesto e non lo contesto solo per un fatto ideale, lo contesto anche per un fatto di interesse, perché se noi vogliamo disegnare un mondo nel quale chi è più forte militarmente invada il suo vicino e il suo vicino si deve arrendere perché è militarmente inferiore, vi comunico che potrebbe non convenirci nell'attuale contesto, quindi non mi convincerete mai che questa sia la soluzione. Dopodiché, in qualche maniera lo dice anche lei nell'intervento perché quando dice oggi è in condizione di negoziare una pace e non una resa, se io devo tenere buone le parole che lei prende in considerazione, è perché qualcuno ha dato una mano all'Ucraina ad arrivare fin qui, perché se avessimo fatto quello che voi proponevate già diversi e diversi mesi fa, l'Ucraina si sarebbe banalmente arresa e sarebbe finita lì. Dopodiché, ovviamente sul tema del costo del conflitto, i conflitti hanno sempre enormi difficoltà, però su questo voglio dire che a maggior ragione perché l'Europa nel suo complesso affronta una situazione estremamente difficile sul piano economico, penso che bisogna essere fieri dei risultati economici che l'Italia sta raccontando e che vengono raccontati da molti osservatori in queste settimane, vale la pena insomma di ricordarne alcuni, no?